Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della mia rubrica Top Story Disney la rubrica che parla delle storie Disney che mi sono più rimaste impresse nel cuore e nella mente nel corso degli anni e oggi voglio parlarvi di una storia uscita sul topolino numero 1966 uno dei topolino da record con in allegato il gadget dei record ovvero il topowalky che superarono tutti un milione di copie in questo caso ci soffermeremo sull'ultima storia del numero 1966 ovvero il Visconte dimezzato una parodia dell'opera di Italo Calvino rimaneggiata in chiave Disney eccoci qui dunque con il topolino numero 1966 questa è la mia copia personale d'epoca un po' distrutta addirittura scarabocchiata con il pennarello però è la mia copia originale di quando avevo sei anni questo numero è impreziosito da un sacco di storie belle ma noi ci soffermeremo come detto prima sull'ultima storia ovvero il Visconte dimezzato di Italo Calvino vediamo che il titolo della storia si presenta come una locandina teatrale proprio perché questa storia fa parte di un ciclo di tre storie ambientate nel teatro Alambra o Alambra non lo so come si possa pronunciare sono uscite tre storie del genere sempre con questo titolo a mo' di locandina che ha la peculiarità a differenza delle altre parodie Disney di iniziare con i personaggi normali ovvero ambientati in epoca attuale come possiamo vedere Minni, Basettoni, tutto il pubblico che arriva e i protagonisti reciteranno appunto un'opera teatrale quindi non è una classica storia in costume come ne abbiamo viste molte in passato ma ha la peculiarità di iniziare così storia che si rifà per l'appunto all'opera di Italo Calvino molto fedelmente potremmo dire i testi qui sono di Lello Arena e Francesco Artibani Lello Arena ha partecipato a varie storie di Disney ma oltre a queste del teatro Alambra anche ad altre storie con protagonista Amelia ricordo bene sempre a fine anni 90 Francesco Artibani che già nel 93 operava nel settore delle storie Disney quindi presente sulle pagine del topo da tantissimo tempo e i disegni sono della grandissima Silvia Ziche qui vediamo i personaggi il protagonista è il visconte Medardo di Terralba impersonato da Pippo lo scudiero Rattopolino il mastro Pietro Chiodo da Orazio il dottor Trelaunei da Zapotec e Pamela da Clarabella con gli effetti speciali di Archimede Pitagorico infatti abbiamo l'altra peculiarità che i personaggi Disney ci sono sia quelli di Topolinia che quelli di Paperopoli in questo caso vabbè solo Archimede quindi la storia inizia con invitati che arrivano al teatro di Topolinia addirittura Rambadilegno che dice al commissario anche voi libera uscita fanno una battutina molto fine e vediamo che Archimede curerà gli effetti speciali dell'opera teatrale vediamo che inizia così la storia con il visconte Medardo con lo scudiero che vanno la volta della guerra e questa è una storia che secondo me attualmente non sarebbe proprio pubblicabile o ripubblicabile vediamo proprio dei riferimenti per la guerra e vediamo vedremo anche successivamente che ci saranno i turchi vengono anche citati come antagonisti di questa guerra e vediamo che il visconte si propone per andare a superare le linee difensive dei turchi che possiedono un cannone enorme che ha decimato le truppe dell'imperatore e vediamo anche che questi turchi chiamano gli infedeli Pippo e Topolino quindi insomma anche riferimenti religiosi quindi secondo me questa storia attualmente non sarebbe proprio pubblicabile vediamo i disegni che sono fatti in maniera magistrale scusate ma c'è un pochettino di vento oggi fortunatamente anche se è un vento che assomiglia più a un asciugacapelli per quanto caldo fa vediamo che i nostri prodi eroi partono all'attacco schivano una prima palla gigante di cannone ma poi vediamo che la seconda palla colpisce in pieno il povero Visconte Petardo e anche il suo povero cavallo secondo me anche queste vignette oggigiorno non sarebbero pubblicabili vediamo che poi col favore delle tenebre il prode scudiero topolino si accinge a salvare almeno cercare di salvare cosa possa restare del Visconte e vediamo che ci riesce anche il cavallo riesce a sopravvivere fortunatamente però poi notiamo che il Visconte Petardo cambia personalità diventa praticamente malvagissimo e vediamo che è proprio dimezzato a differenza dell'opera di Calvino non è dimezzato verticalmente ma orizzontalmente e vediamo anche che ha un caratteraccio veramente malvagio nei confronti dei suoi sudditi addirittura inizierà già a fare una politica di di tasse aumentate a dismisura si inventerà un sacco di nuove gabelle particolari e si diverte anche a vessare i suoi sudditi qui il Visconte quindi diventa cattivissimo e lo scudiero Topolino non può fare altro che osservare senza poter fare nulla di particolare per poter cambiare la situazione vediamo successivamente che il Visconte aumenterà a dismisura ci sarà un escalation di fesserie che inizierà a compiere nei confronti della popolazione continuare anche dalla modifica del villaggio diminuito in grandezza addirittura anche i ristoranti che dimezzano le porzioni tutto ciò che ha a che fare con la giurisdizione del Visconte troverà una una dimezzazione praticamente anche le mele del frutteto sono dimezzate addirittura si inventa una tassa sulla tristezza insomma vediamo che il popolo il popolino non se la passa bene vediamo poi che il Visconte uscendo in campagna trova anche la ragazza Pamela interpretata qui da Clara Bella si innamora di lei e cercherà anche di chiedere la sua mano porgendole un sacco di mezzi regali fin quando non arriva alla porta della sua abitazione per chiedere ufficialmente la mano vediamo che lei rifiuterà però lui ha un bel marchigegno che si chiama la macchina dimezzatrice che usa per demolire metà fattoria dei genitori di Clara Bella anzi di Pamela scusate e se non accetterà di sposarlo insomma meglio non metterselo contro così Pamela decide di andare in esilio andando nel bosco di Pratofungo e così finisce il primo atto vediamo che cala il sipario con gli applausi scroscianti del pubblico vediamo le bellissime pubblicità dell'epoca qui abbiamo addirittura una pubblicità per incitare i giovani ad arruolarsi nei carabinieri per quanto riguarda la leva militare perché prima c'era la leva obbligatoria si poteva scegliere se farla o nelle forze armate o come ausiliario nei carabinieri insomma vediamo anche gli spunti adesso non so se ci sono ancora e poi iniziamo con il secondo atto del visconte dimezzato con il prode scudiero topolino che è stato chiamato dal visconte ad andare a raccogliere dei lamponi nonostante il clima non sia dei migliori vediamo che viene attaccato da un orso e l'orso viene catturato da un altro individuo che è tale quale al visconte vediamo che topolino si meraviglia anche del carattere più buono più pagione di questo visconte torna a castello esultando dicendo che il buon vecchio medardo è tornato mentre sta parlando con le guardie arriva il visconte cattivo e lo sbatte addirittura in cella per una notte vediamo che poi anche il professore quel dottor che adesso non mi ricordo come si chiama il professor Zapotec possiamo dire tanto sappiamo chi è farà l'incontro con il visconte buono nel frattempo il visconte buono fa anche egli la conoscenza con Pamela anche lui si innamura di lei lei racconta che c'è la versione malvagia di lui a seminare terrore sulla popolazione lui dice che questo è un impostore quindi cercheranno di attuare un piano per smascherarlo il giorno successivo praticamente che è il giorno delle nozze del visconte perché Pamela si introduce nel palazzo chiedendo al visconte effettivamente di sposarlo il giorno successivo Pamela si presenta all'altare con l'altro visconte medardo ovviamente i due sono identici non riuscirà il visconte buono a sortire l'effetto di smascherare l'altro quindi i due si danno appuntamento al giorno successivo per un duello per decidere chi sarà il vincitore e il vero visconte in questo caso il dottor Trelamway insomma un nome più particolare non poteva averlo trae la sua conclusione dicendo che tutte e due sono il visconte ovvero una parte di esso la palla di cannone mentre ha colpito il visconte ha diviso il visconte in due una parte buona una parte malvagia quindi cercherà grazie all'ausilio anche del maestro il mastro Pietro Chiodo Orazio di costruire un marchigegno che possa riunirli quindi il giorno successivo i nostri due mezzi pipidi si preparano a un a un duello vediamo che qui i disegni di Silvia Z che sono spettacolari anche come narra proprio le varie fasi del combattimento mentre di sotto della torre ci sono i nostri che preparano il marchigegno il visconte buono riesce a far cadere dal torrione la parte malvagia si tuffa anch'esso in questa macchina e finalmente ritorna ad essere il visconte tutto intero vediamo anche che alla fine si sposa con la pamela vediamo anche il quadro finalmente messo come si deve e qui poi si conclude l'opera teatrale quindi vediamo che si ritorna ai giorni nostri poi vediamo che Archimede decide di ritornare a Paperopoli non prima però di aver disattivato il robo visconte quindi le due parti di pippo erano in realtà due robot vediamo poi che la chiusura proprio in maniera più comica possibile arrivano i tecnici per mettere a posto tutti i facchini e mettono nella scatola anche il buon vecchio pippo vediamo una bella pubblicità dei mighty max non so se ve li ricordavate giovani marmotte e questi ragazzi era la storia del visconte dimezzato una storia che a me è piaciuta tantissimo da piccolo mi ha fatto sia morire da ridere ma anche nutrire una sorta di di paura per quel visconte malvagio che era diventato il povero peppo noi essendo abituati a vedere peppo come una persona buona a vedere quella parte di peppo malvagia veramente mi rimase in mente spero ragazzi che questa storia vi sia piaciuta se l'avete già letta in passato se non l'avete letta insomma scrivetemi nei commenti se vi è piaciuta io con questo vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao 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 ciao